su questo splendido rindo onore dei vari soggetti appartenenti alle diverse razze ma per dare un degno inizio a questa giornata, a questo pomeriggio cinofilo cominciamo con una dimostrazione di Disc Dog ho il piacere di presentarvi Sandro del Charlie Dog che farà da speaker per la dimostrazione di Disc Dog a seguire il raggruppamento dei giovani presentatori e quindi i raggruppamenti ufficiali che trovate alla pagina 15 del catalogo a tra poco a te Sandro grazie, buongiorno a tutti io sono Sandro appunto del Charlie Dog di Brescia oggi sono qui in vesti di speaker mi hanno chiesto di far così per presentarvi un binomio che frequenta il nostro campo di addestramento noi ci occupiamo di Agility questo cane fa Agility con Corinne che è la moglie di Tito e però fa anche un'altra attività appunto quella del Disc Dog non so quanti di voi la conoscono tenterò brevemente intanto che Tito scalda un attimo il suo cane per prepararlo alla sua esibizione di spiegarvi in linea di massima in che cosa consiste le gare di Disc Dog si suddividono principalmente in due discipline una è detta di distance dove il cane deve semplicemente non così semplicemente, non è così facile come sembra andare a prendersi il disco il più lontano possibile in base alla distanza di recupero del disco viene assegnato un punteggio in un determinato tempo più dischi riporta il cane in funzione della distanza viene assegnato un punteggio e la gara appunto si svolge su questo l'altra disciplina forse un attimo più spettacolare che sicuramente oggi chi di voi non l'ha mai vista ne resterà particolarmente affascinato viene denominata freestyle consiste in una coreografia scelta liberamente dal conduttore su una musica che il conduttore sceglie e in questa coreografia il conduttore e il cane eseguono vari esercizi con un numero penso illimitato di frisbee che vengono lanciati con acrobazie di vario livello in ambito agonistico le giurie si occuperanno di assegnare un punteggio in base appunto a quanto viene proposto quanto viene recuperato dal cane e tutto questo nel tempo della musica che viene scelta quando Tito è pronto mi fa un cenno mi dicono di sì chiedo l'assistenza di Corin per magari darvi qualche dritta in più sui nomi tecnici che vengono dati ai vari tipi di acrobazie che il cane esegue quando siamo pronti via si accetta il tifo ad alto volume e via siamo partiti eccoci qua eccolo là grande Lucky Lucky è un border collie di tre anni allora oggi è la sua prima volta che si esibisce su un terreno di questo tipo la moquette dove non c'è grip per cui il cane scivola parecchio pertanto tante difficoltà sono in più sul terreno naturale e l'erba come potete vedere tutto questo nasce allora prima di tutto da un grande allenamento yeah la la grande allenamento grande feeling con il cane perché senza di questo non si andrebbe da nessuna parte ok quando il cane sbaglia non è mai colpa del cane sarà sicuramente Tito che non ha lanciato bene il frisbee ok ok Corini intanto non mi sta suggerendo i nomi dei vari movimenti ma va bene lo stesso queste esibizioni chiaramente durano poco tempo ma è facile anche capire il perché perché dopo tre minuti che il cane lavora in questo modo esce sfinito sia fisicamente che di testa perché comunque come vedete è concentratissimo sul frisbee tutti questi movimenti vengono eh sono chi di voi magari si entusiasmerà a vedere questa disciplina chiaramente come tutte le cose vanno fatte con calma ma non c'è da andare a casa e cominciare a farsi saltare il cane sulla schiena vedete anche l'abilità comunque del conduttore perché il frisbee deve essere lanciato in modo corretto per fare in modo che il cane se lo trovi all'altezza giusta al momento giusto bravo Tito e grande Lucky Tito e Lucky quest'estate la scorsa estate hanno partecipato al campionato europeo dico giusto hanno vinto la classe debuttanti sono molto provettenti si dice nel loro settore vi assicuro che Lucky è un cane fantastico anche in agility molto molto veloce magari non è così altrettanto veloce la sua conduttrice che è la moglie quella a mio fianco qua ma quando debutteremo ci farà divertire molto anche in agility bellissimo Lucky bravo un grande applauso bravissimi ok eccoci qua noi abbiamo già finito lasciamo lo spazio a tutto quello che concerne il rindonore vi ringraziamo per l'attenzione chi fosse interessato al disc magari Tito è disponibile fuori dal dal campo darvi due dritte grazie a tutti 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 Grazie a tutti.